da buon fashion blogger d'ora in poi basta video sul calcio mi dedicherò ad altro va bene ciao c'è gente che mi guarda perché infatti fa gallo tu ridi che cazzo ridi sempre voglio sapere fa un caldo esagerato signor sto a fare un po spartita dai per cortesia me mette in imbarazzo non riesco a parlare davanti alla gente grazie siamo tornati scusate siamo sì perché mi imbarazzo perché parlo cioè vetri aperti perché fa troppo caldo passa la gente dice ma ho capito siamo tornati con questo nuovo video perché zitto zitto il messico se la porta a casa come era anche abbastanza facilmente pronosticabile questi stanno a sei punti regà io vi dico solo che hanno passato il girone e che quasi quasi chi lo sa no vabbè ci stanno gli ottavi quarti a semifinale finale ma avete visto quel post girava un post che diceva i simpson hanno pronosticato quella che sarà la finale dei mondiali della russia 2018 io me la ricordo bene quella puntata di omer che si compra la pistola in realtà non si parla del 2018 ma fanno vedere la grandissima finale dei mondiali una puntata vecchia messico portogallo e fanno vedere a un certo punto i giocatori del messico che entrano dentro una piscina con tante belle donne come a di che i messicani sono nati a putta è capito in realtà ci sono nati veramente e quindi hanno ricollegato e hanno fatto ma non è che si verifica veramente perché comunque per come gioca al messico sinceramente guardando che ha battuto la germania guardando che la spagna riesce a vincere solo 1 a 0 con l'iran guardando che tante altre squadre ci hanno di figo e cazzo ride ancora perché continui a ridere lo so che passaggio a me ne frega un cazzo non ridere sto registrando e quindi insomma potrebbe chi lo sa ah sta che ride per le puttane no no ah che me stava a guardare ma che me frega a me e allora che ridi e quindi niente ragazzi chi lo sa potrebbe anche verificarsi perché le profezie i simpson non è la prima volta che ci azzeccano donald trump presidente degli stati uniti hanno beccato loro se non mi sbaglio ma va bene detto che mi ricordo vabbè comunque sia che partita avete visto avete vista la partita del messico io ho visto fino a un certo punto come sono rotto il cazzo e sono uscito per dica la verità perché cioè tanto si la sbloccata sul calcio di rigore per carità poi si è messo anche un pochino a gestì però a mio parere insomma differenza tecnica e tattica ha fatto ha fatto la differenza secondo voi dove può arrivare il messico può arrivare almeno ai quarti in semifinale se verifica la profezia me lo fate gentilmente sapere nei commenti detto questo mi piace commentate condividete iscrivetevi al mio canale ma voi per stasera chi gufate gufate svezia gufate germania o non ve ne può fregare di meno perché tanto chi vince vince chi perde perde mi fate hashtag con chi guferete per cortesia se non gufate mi fate hashtag ovviamente va bene volevo aggiungere un'altra cosa che mi sono dimenticato non me lo ricordo ciao ciao